La seduta del 17 settembre Il Consiglio regionale, dopo le comunicazioni dell'assessore alla caccia, ha svolto un ampio dibattito sul calendario venatorio. Nel pomeriggio ha esaminato, discusso e votato 11 ordini del giorno sulla TAV in Valle di Susa, approvando a larga maggioranza il documento di condanna degli episodi di violenza contro il cantiere, presentato dall'ufficio di presidenza. L'Assemblea ha poi approvato un documento sull'accessazione della produzione alle acciaierie Riva di Lesegno, in provincia di Cuneo. Contest sui dati pubblici della regione Raccontare 40 anni di storia della regione attraverso i dati pubblici è l'obiettivo di Piemonte Visual Contest, concorso per designer, sviluppatori, scuole e aziende, realizzato dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con il consorzio Topics. Il concorso prende via il 20 settembre, si divide in due categorie, infografica e visualizzazione dati, e premierà i migliori tre lavori di ogni categoria. Progetto di storia contemporanea Pubblicato il bando che avvia la 33esima edizione del progetto di storia contemporanea del Comitato Resistenza e Costituzione, con l'ufficio scolastico regionale e le province. Il progetto propone agli studenti e ai loro insegnanti una occasione di studio e di ricerca su tre tracce. L'8 settembre 1943, la condizione della prigionia militare in tempo di guerra, le violenze gratuite e sistematiche a cui vengono sottoposti i civili durante i conflitti, e infine la Shoah e le manifestazioni di razzismo e discriminazione. Studenti piemontesi e l'Europa La consulta europea del Consiglio regionale ha organizzato il viaggio studio a Trieste, Ljubljana e Zagabria per 36 studenti delle scuole superiori, vincitori del concorso Diventiamo Cittadini Europei. La delegazione piemontese ha partecipato a Trieste al Debate on the Future of Europe e all'incontro con la vicepresidente della Commissione Europea, Vivian Reding. Inoltre ha visitato i parlamenti di Slovenia e Croazia. Porte aperte a Palazzo Lascaris Riprende l'iniziativa Porte aperte a Palazzo Lascaris, visite guidate il sabato mattina alla sede del Consiglio regionale, aperte a tutti i cittadini. Un'occasione per conoscere da vicino il funzionamento dell'Assemblea legislativa e le sue attività istituzionali. Inoltre, nella visita guidata, i cittadini conosceranno la storia e il valore artistico di Palazzo Lascaris, edificio barocco nel centro di Torino. Prossimi appuntamenti nei sabati 5 ottobre, 9 novembre e 7 dicembre.